Rush finale per il Partito Democratico per conquistare il Senato in Veneto. Per la prima volta spiega il segretario regionale e candidata Rosanna Filippini. I democratici sono ad un'incollatura dal centro-destra e intendono approfittarne fino in fondo, cercando di conquistare fino all'ultimo voto. Scatta così giovedì l'Operazione Ohio. Cosa vuol dire Operazione Ohio? Vuol dire che tutti quanti, noi candidati, io, Laura Puppato, tutti coloro che si presentano a questo Parlamento busseranno alle porte dei cittadini veneti, porta per porta, per convincerli a votare per il Partito Democratico. Così come in America i voti dello Stato dell'Oahio sono stati determinanti per Obama per vincere, così oggi lo sono quelli veneti per il PD. Un vero e proprio porta a porta dei candidati, chi ha scelto di bussare le fabbriche, i call center, i mercati e chi proprio di andare di casa in casa. Vogliamo che il Veneto sia l'Oahio dell'Italia, cioè una regione che decide di affidarsi al centro-sinistra e al Partito Democratico e quindi con il suo voto, affidando la maggioranza nel Senato al Partito Democratico, determina la governabilità dell'intero Paese. E sul tavolo delle riforme i democratici mettono già una proposta da realizzare da subito e che guarda ai tanto contestati costi della politica. I primi 100 giorni non prorogherà di oltre, taglierà i costi dei parlamentari portandoli a meno 30%. Candidati democratici reduci da un turno ai 581 comuni della nostra regione, dove hanno ascoltato, risposto e raccolto istanze della gente, ma anche delle attività economiche locali e dei comuni. La gente ci chiede fattiva coerenza rispetto alle dichiarazioni, le nostre promesse sono promesse tutte realizzabili, non sono problemi realizzabili, al centro il lavoro, l'occupazione, troppe famiglie stanno piangendo perché i figli non trovano lavoro. Che i comuni possano utilizzare meglio il patto di stabilità che oggi li blocca nei pagamenti dei loro retrati, nel fare opere pubbliche, ma soprattutto che ci sia un intervento su meno burocrazia, più credito e meno tasse. Grazie. Grazie.